ultimo fine settimana prima dell'inizio ufficiale dei prossimi campionati di serie a 2 di basket maschile naturalmente tutto pronto invece per le finalette della supercoppa centenario 2020 che si disputerà a partire da venerdì sul parquet del pala benedetto di cento si comincerà con i quarti di finale che vedranno impegnata venerdì la girova scafati tra l'altro unica rappresentante del basket campano contro la npc rieti alle ore 18 in caso di vittoria la compagina del lagro e cara naturalmente a patronello longobardi affronterà sabato alle ore 20 e 45 in semifinale la vincente tra il confronto dei quarti di finale tra ferrara e i padroni di casa di cento dopo un cammino in crescendo fatto di una sconfitta all'overtime nel turno d'esordio a latine due vittorie casalinghe convincenti contro sansevero e napoli la girova scafati si prepara a affrontare con grande concentrazione la kermesse in programma sul parquet del pala benedetto di cento con una certa convenzione e tra l'altro determinazione la prima avversaria dei giallo blusa la la npc rieti di coach alessandro rossi alla quarta stigione di fila sulla panchina amaranto celeste laziale il tecnico partenopea potrà contare sulla solidità esperienza di una coppia di statunitensi di primo ordine in a2 composta dalla centro taylor e della guardia pepper e poi da due atleti che conoscono molto bene scafati per aver vestito la maglia giallo blu si tratta di tommasini a scafati nelle due ultime stagioni e sanguinetti in giallo blu nella stagione 2014 2015 a questi due giocatori vanno aggiunti gli esterni stefanelli e fumagalli e lunghi de laurentis ponziani e noncovic appuntamento quindi venerdì alle ore 18 per la givova scafati esordirà per l'occasione alle final eight di cento anche il giovanissimo gragnanese vincenzo festinese ala di 200 centimetri classe 2002 redice da una buona esperienza a tortona sempre in a2 e che si allena già da qualche giorno con la formazione di coach finelli definiti anche i recuperi delle prime due giornate del nuovo campionato di serie a2 per la jevi napoli basket la partita di campionato valevole per la prima giornata del girone rosso jevi napoli basket stella azzurra roma in programma in un primo momento il 15 novembre 2020 è stata posticipata al 9 dicembre 2020 sempre alle ore 18 al pala barbuto la gara di campionato invece valevole per la seconda giornata sempre del girone rosso tra top secret club basket ferrara e jevi napoli basket in programma il 18 novembre è stata posticipata al 25 novembre 2020 alle ore 20 e 30 sul parquet del palace di ferrara intanto per quanto riguarda il campionato di serie b la parteno pesantantimo ha ufficializzato l'accordo raggiunto per la stagione sportiva 2020 2021 con il giocatore nunzio sabatino plemaker di 188 centimetri classe 1992 con un'ampia esperienza nel campionato cadetto le le prime parole di nunzio sabatino sono davvero contento per questa opportunità che mi si è presentata ritorno in campagna vicino casa ma soprattutto trovo una società ambiziosa che ha progetti molto interessanti la squadra è ben bilanciata ci saranno tante cose su cui poter contare ci sono tanti giovani ma allo stesso tempo diversi veterani e io probabilmente mi colloco in mezzo sabatino dovrebbe esordire con la parteno pesantantimo domenica prossima nell'esordio il campionato cadetto della compagine di col senso patrizio previsto fra le mulamiche contro la corazzata sebastiani rieti grazie a tutti Grazie a tutti.